E' qui in veste di scrittrice, però naturalmente Monica è Monica in tutto, cioè non è che è scrittrice, lei intanto è una straordinaria attrice, quindi noi ti vogliamo chiedere ma tu impieghi più o meno di 10 anni per dimenticarti una parte, non per impararla, è per dimenticarti. Ne ho fatte più di 40 di grandissimi personaggi, avrei dovuto metterci 400 anni, se ogni personaggio ci devo passare, no non me le ricordo tutti, vanno con una specie di luogo della memoria dove si chiudono queste stanze, loro rimangono lì in oblio, quindi non morti e non vivi Ma pronti a essere risvegliati? Sì, sono come dei fantasmi che rimangono un pochino in silenzio, pronti ad essere risvegliati se una delle loro caratteristiche può appartenere a un personaggio nuovo che sta arrivando. Senti, io te l'ho chiesto perché la legge, l'abbiamo appreso questa settimana, dice che si può dare il rete di cittadinanza anche ai terroristi, ai mafiosi, agli assassini, agli autori di femminicidio, purché siano passati almeno 10 anni dalla condanna definitiva. Però naturalmente per chi era legato, amava le vittime, è difficile stabilire un tempo oltre il quale può partire l'oblio. Tu cosa ne pensi? Mi viene in mente sempre il grandissimo testo per eccellenza sulla legge del cuore e la legge della città. Antigone e Creonte. La legge della città dice che dopo 10 anni probabilmente si può. La legge del cuore, Antigone, non lo ammetterebbe mai perché ha ucciso un uomo che è stato amato, ha ucciso un essere umano. Nell'equilibrio, nel mettere insieme le due cose che c'è la giustizia, la saggezza, dice Sofocle. Per quanto riguarda me mi dovrei tacere, perché ci sono di questi temi come l'eutanasia, come l'assistenza alla morte, che fanno parte veramente di una coscienza civile, sociale e interiore soprattutto, che è un pochino individuale. Senti, ma se c'è qualcuno che vuole dettare i tempi dell'obbligo, invece esiste qualcosa che segue dei tempi tutti suoi, che è il perdono. A volte servono anni, ma altre volte basta un attimo. Io ti mostro un filmato che viene da Dallas, una poliziotta che è stata appena condannata a 10 anni per l'omicidio di un ragazzo, suo vicino di casa, che aveva scambiato per un ladro, ma ecco che prende la parola Brandt, 18 anni, il fratello della vittima, e questo è quello che succede. Questa non è TV del dolore, questa è la vita, è la vita. Sei appena trovato in libreria con una storia che rischiava di cadere nell'obbligo, infatti giuro che non la conoscevo prima di reggire il tuo libro. Si intitola Quel che so di lei, donne prigionieri di amori straordinari, editora Longanesi, in cui racconti le vicende della contessa Giulia Trigona, che nel 1911 fu vittima del primo femminicidio che ebbe una risonanza mediata. Intanto come ti sei imbattuta in questa storia? L'ho letta in un libro di Cinziatani che si chiamava Amori Crudeli, che trattava di tutti questi grandi casi di amori finiti tragicamente. Mi ha impressionato per l'inizio e l'epilogo. L'inizio è estremamente emblematico, perché lei, questa donna, comincia la sua caduta, fino ad arrivare ad essere trovata morta con la testa spiccata dal collo in un albergaccio vicino alla stazione Termini, ed è Giulia Trigona, moglie del sindaco di Palermo, figlia dei principi Tasca di Coutot, Palazzo Finangeri, il gatto pardo. Chi ha letto i leoni di Sicilia avrà già incontrato i Trigona, i Lanza. Ecco, questa era la famiglia, il mondo in cui viveva. Dice Beatrice Tomasi, che è la sorella sposata a Tomasi di Lampedusa, mia sorella era una moglie appagata e felice. Era una donna felice. Il tradimento del marito le praticamente sconquassa la sua architettura, il suo essere madre, moglie, ma soprattutto dopo due giorni c'è il terremoto di Messina. Quindi è una sorta di terremoto interiore ed esteriore che butta la donna in una grande depressione. Ne esce dopo sei mesi, vestita di nero, per andare a un ricevimento a Villeggia dove incontra il suo assassino. Un piccolo nobilastro proprietario di solfatare in disuso che per proprietà transitiva vede i nobili, vede questa donna fragile, la fa sua nel momento in cui il predatore però vede che la preda sta scappando, diventa violento. La donna si allontana da lei, dopo due anni fa il famoso errore. Concede l'ultimo appuntamento. Soltanto una donna, fatemi dire una grande donna come Monica, poteva affrontare un tema delicatissimo, la psicologia della vittima. Noi ci concentriamo giustamente sulla psicologia del delinquente, fatemelo chiamare così, ma c'è la psicologia della vittima. C'è la domanda che tutti ci poniamo, che cosa porta una donna ad amare il suo caranepice, a dargli quell'ultimo appuntamento che spesso poi diventa veramente l'ultimo. E tu chiedi aiuto ai grandi personaggi che hai interpretato, un po' questo? Sì, in qualche modo sì, è come se, dice Pasolini, la morte non è nel non poter comunicare, ma nel non poter più essere compresi. Giulia Trigona non può parlare. Io non ho parole per dire quelle che sono i momenti fondamentali, le tappe fatali che hanno portato questa donna ad arrivare in quella situazione, in quella stanza. Però so quali sono i suoi momenti fatali, quelli che l'hanno accompagnata. La perdita, la caduta, la disillusione, l'eros e quindi attraverso grandi autori, più che le donne, sono i grandi autori letterari che raccontano questi che sono i nostri momenti fatali. Da queste porte, che sono le sette porte che Giulia attraversa realmente quel corridoio per andare a morire il 2 marzo, perché lei arriverà nella stanza numero 8, quelle sette porte raccontano questi personaggi femminili che la porteranno fino al no, che è raccontato da Carmen e Oriana Fallaci, che sono le donne sgarbate, quelle che cominciano a dire no, ed è il no che uccide. Esatto, andremo ad aprirle tutte queste porte. Naturalmente, io adesso lo dico così, ma naturalmente è qualcosa di molto complicato, molto doloroso, però ecco la letteratura in questo caso ci può aiutare. Noi intanto ti rivedremo anche a teatro, sei al Quirino di Roma, dal 29 ottobre con l'Anima Buona di Sedwan di Brecht nell'allestimento di Stretti. È come un salto in una materia incandescente, sono molto contenta perché lo vedi nell'81 e ripropongo la stessa versione fatta da Giorgia Streller, Andrea Ion, sono Luciano Damiani. Grazie.